Nell'altopiano dei sette comuni l'arte casearia è nota da millenni. Il formaggio si fa da sempre e la figura del casaro è da sempre molto richiesta. Anche oggi, eppure, di casari se ne trovano sempre meno. E così l'Istituto Superiore Rigoni Stern di Asiago ha deciso di dare via un corso per insegnare i segreti del formaggio ai suoi studenti. Un approccio teorico alla materia, ma soprattutto pratico. Ecco che cosa ne pensano i ragazzi dopo ore e ore passate con le mani letteralmente in pasta. L'esperienza è bella, è veramente bella, anche perché si imparano tante cose. I segreti, diciamo, non proprio tutti, però alcuni segreti si imparano. Segreti che ti porteranno a fare questo lavoro. Ti piacerebbe fare il casaro? Sì, sì. Io mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe fare più il casaro, comunque lavorare con le mucche, lavorare in stalla, fare anche il formaggio. Hai già esperienza? Hai già avuto modo magari di dare una mano a lavorare in stalla o lavorare il formaggio al di fuori di questa esperienza? Beh, in stalla sì, il formaggio anche in Malga. Sono andato su due stati. E facevo il formaggio la mattina, aiutavo. Se c'era bisogno lo facevo al posto del casaro che c'è là. A guidare i giovani casari c'è chi ha passato tutta la vita fra caliera e latte, caglio e sale, forme e fasciere. Quando ho iniziato io erano altri tempi, perché si è passato qualche anno, però loro vedo che verranno di bravi i casari, veramente. C'è speranza per il formaggio qua del territorio? Noi puntiamo tutto sul territorio praticamente, perché non possiamo pretendere di fare le mozzarella ad asiaco. Noi puntiamo su formaggini locali, insomma. Imparare un'arte equivale in questo caso a imparare un mestiere, un modo per combattere i mali endemici della montagna come lo spopolamento attraverso la creazione di posti di lavoro e il mantenimento di una filiera di grande importanza. È una figura molto richiesta, soprattutto quella del casaro, perché il territorio è molto privo di queste figure. È importante che se ne creano quante più possibili, anche per pubblicizzare il prodotto che c'è qui in alto piano. È importante portarlo avanti soprattutto, perché le generazioni man mano passano col tempo, e quindi è importante che i ragazzi imparino un mestiere che è il pilastro del territorio.